Alice si sposa, torna a Trapani e anche quest'anno porta con sé tante novità e un ricco montepremi. Due giorni di fiera per conoscere fotografi, musicisti, atelier, sale e ricevimenti e tanto altro. Tutte le aziende che ruotano intorno ai matrimoni saranno disponibili per tutte le future coppie che visiteranno il loro stand in esposizione a presentare le loro offerte e le novità per l'anno 2016. Ci ritroviamo dopo un anno o quasi circa un anno nuovamente a Trapani, una location diversa, il Palacardella in Via Capua, Casa Santa Derice nuovamente qui per la fiera della sposa e della casa con tante aziende, tante novità, due premi per le future coppie uno per la coppia più fortunata e un concorso che si è chiuso oggi il fotocontest, l'immagine, la foto più cliccata che ha ricevuto Mi Piace.